Nino Morigia, avvocato, che ha creato il Comicost, Linda Corrias, avvocato, ci siamo già incontrati altre volte, altre interviste con Linda. Tutti chiedono cosa sta succedendo. Parto io? Sì. Sta succedendo che in questi due anni abbiamo visto legiferazioni continue, illegittime, anticostituzionali, ormai tutti l'hanno imparato a memoria, però la realtà è che continua questa modalità. Anzi, abbiamo visto il peggio del peggio in questi ultimi due o tre mesi, ottobre, novembre, dicembre, una legiferazione convulsa, una legiferazione compulsiva, che non ha senso fondamentalmente, perché se io devo ottenere un obiettivo, ho gli scaraffaggi in cantina, li devo eliminare, cosa faccio? Studio un piano di diserbo, studio un piano entomologico e li elimino con un progetto. e qui invece o questi signori sono completamente incapaci e non sanno neanche loro quello che fanno, oppure quello che fanno lo sanno fin troppo bene e lo fanno con una metodologia che non è quella di risolvere il problema dell'emergenza Covid-19, così la chiamano adesso quando invece prima era l'emergenza epidemiologica. Ma è un'altra situazione, dove l'articolo? Eccolo qua. Visto il decreto legge 25 marzo del 2020 numero 19, convertito con modificazioni della legge 22 maggio 2020 numero 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Allora, se abbiamo questa emergenza e stiamo lavorando contro questa situazione epidemiologica, dopo due anni presumo che le contromisure siano state valutate, studiate e adottate. Le contromisure migliori sono state ritenute quelle della cosiddetta vaccinazione. risultato, se l'anno scorso di questo periodo avevamo 20.000 contagiati, adesso ne abbiamo 230.000, quindi qualcosa non ha funzionato. Quindi o è un problema di carattere epidemiologico, sanitario e quindi la risposta è siete degli incapaci, andatevene a casa, cancellate tutto e fateci rivivere come vivevamo prima, cioè affrontando e combattendo le problematiche quotidianamente anche della salute, come per i problemi oncologici e come per i problemi alimentari e quant'altro. Quindi non stiamo parlando di un'emergenza sanitaria, stiamo parlando di un piano politico che è quello di creare ogni 10 giorni, 15 giorni, una nuova normativa che va a penalizzare coloro che non sono d'accordo con quello che viene propinato dal sistema. Questo è quello che io sto vedendo. Quindi che avessero il coraggio di dirlo, perché ci troviamo in un contesto nel quale viene posto in essere un colpo di Stato graduale, perché gli ultimi decreti legge non sono neanche stati presentati al Parlamento e alcuni parlamentari si sono lamentati di questo. Noi stiamo urlando, stiamo cercando di convincere anche i parlamentari, stiamo cercando di risvegliarli da questo torpore. Parlamentari, svegliatevi, guardate in faccia la realtà a cosa sta effettivamente succedendo. Non valete più niente, non contate più niente, non servite più a niente se non ad essere complici di questo colpo di Stato. Quindi ve ne dovete assumere le responsabilità. Linda. Penso che ormai la realtà sia sotto gli occhi di tutti. È diventata talmente dissonante la voce di questa narrativa illogica, antitetica. Se si confrontano i dati dei contagi 2020 e 2021, ci si rende conto che nella misura in cui ha avuto affermazione la campagna vaccinale, questi contagi sono aumentati e sono attualmente in aumento. Ormai è evidente che chi ha ricevuto le due dosi di trattamento vaccinale e oggi anche la terza, non solo sia mala, ma è altamente contagioso. Abbiamo notizia, denuncia di plurimi focolai in ambienti dove il 100% dei lavoratori è vaccinato. Indi per cui la razza stessa di queste increscenti imposizioni di questo obbligo vaccinale protratto a step dove si toccano sempre fasce differenti della popolazione per ottenere una resa alla spicciolata, proprio perché volutamente non si crea un blocco di imposizione unito, perché la reazione sarebbe più forte, è un obbligo illogico e irrazionale, perché è un trattamento che non immunizza, anzi indebolisce lo stato del sistema immunitario. E il recentissimo studio della Gran Bretagna, paese dove la campagna vaccinale è stata fortemente diffusa, lo dimostra. Quindi si riducono le difese immunitarie, questo da documentazione, perché non voglio entrare in un terreno non mio, ma il fatto che i contagi siano in aumento a causa del trattamento dimostrano che questa imposizione è un'imposizione con tutt'altra finalità rispetto a quelle di contenere l'eventuale emergenza sanitaria. Detto questo, aggiungo che poi questa legiferazione convulsa pregiudica totalmente la possibilità di reagire, perché un'impugnazione di un atto normativo di oggi è obsoleta nell'arco di 7-8 giorni, indi per cui pregiudica completamente qualsiasi verifica di legalità e legittimità. Come a Forziori possiamo affermare che gravissima è l'imposizione di obbligo di Green Pass per chi entra nei tribunali, per chi accede nei tribunali. Si sta pregiudicando il diritto di difesa. E aggiungiamo ancora una volta anche la questione dell'obbligo vaccinale indiscriminato e indistinto per i cinquantenni, che non solo è antitetico, come abbiamo detto prima, perché questo trattamento non immunizza, ma è anche illogico, perché un cinquantenne, anche secondo il loro concetto di vaccino, a un cinquantenne che non ha contatto col pubblico non si comprende perché debba essere obbligato a questo trattamento. Quindi non c'è niente che abbia un filo logico. Perciò io invito al risveglio, non solo facendo seguito a quanto ha appena detto l'Avvocato Morigia nei confronti dei parlamentari, ma in particolare nei confronti della magistratura. Che, seppur offuscata da tale tanta confusione della narrativa scientifica, non può rendersi conto della perpetrata emergenza costituzionale, di violazione dei diritti umani, di compressione e ablassione dei diritti più importanti, dei diritti fondamentali, che si perpetra in maniera ingravescente da marzo 2020. E l'emergenza della legalità e l'emergenza costituzionale non può non essere vista dal giurista, quantomeno nel contesto più assettico, all'interno delle proprie mura, ma deve essere vista e deve essere denunciata. I nostri ricorsi non possono cadere nel nulla in virtù di un'emergenza sanitaria, vera o paventata. Perché altrimenti è ovvio ed è confermato che siamo in una situazione di colpo di Stato, in una situazione di dittatura, in una situazione, ancor peggio, di totalitarismo. Ma tutto questo, se lo scopo non è quello sanitario, perché è chiaro che non è quello sanitario. D'altra parte il Green Pass in teoria dovrebbe essere gestito, cioè no, in pratica dovrebbe essere gestito dal Ministero della Salute, invece gestito dal Ministero della Finanza. Perché? Perché c'è il collegamento con l'obiettivo che è quello dell'identità digitale. Questo è evidente per chi si è documentato, per chi ascolta le parole, ma semplicemente Draghi quando ha fatto il discorso di insediamento alla Presidenza del Consiglio, ha parlato chiarissimamente. Basta ascoltare quello che hanno detto loro. Cosa ha detto? Ha detto che si va verso l'identità digitale, ha detto che si va verso la cessione di sovranità, ha detto che si va verso una Costituzione europea. Cosa vuol dire identità digitale? Identità digitale significa che praticamente concentri in un unico documento digitale tutti i tuoi dati personali, che sono quelli sanitari, sono quelli civili, sono quelli anagrafici, sono quelli bancari, sono quelli fiscali, sono quelli di circolazione, per arrivare dove? L'esempio al modello cinese è quello che stanno applicando e che stanno cercando di raggiungere, ovvero arrivare a una sorta di credito sociale. Io ti pago per fare quello che ti dico, questo è il loro obiettivo, con un controllo che secondo me, da quello che abbiamo potuto vedere dal professor Campra e altri, hanno trovato delle sostanze, hanno trovato la nanotecnologia in questi farmaci e quindi è tutto collegato, tutto è collegato, è tutto collegato, questo è evidente, io non ho problemi a dirlo perché lo sappiamo tutti ormai, il punto è quanto sapere queste cose rimanga solo un punto di vista di consapevolezza o diventi qualcosa di attivo che vada a sradicare questa marcescienza, questa linea verso il transumanesimo, perché l'essere umano, i cittadini italiani, le persone che si informano sono consapevoli di questo, non possono chiudere gli occhi, la maggior parte chiude gli occhi oppure, come dire, è deviata nell'ipnotismo della televisione e questo è quello che sta succedendo. Volevo aggiungere qualcosa a proposito di quanto ha detto prima Linda riguardo alla magistratura. La magistratura in questo momento ha una grossissima responsabilità, perché? Perché? Perché questo graduale movimento verso la deriva e la perdita dei diritti costituzionali e quindi il passaggio da uno Stato democratico a uno Stato totalitario ha avuto dei segnali evidenti fin dall'inizio che sono stati sempre più o meno giustificati. Non dimentichiamo che l'allora quarta carica dello Stato, che era la dottoressa Cartabia, Presidente della Corte Costituzionale, è diventata Ministro della Giustizia. Non dimentichiamo le prese di posizione e le iniziative che questo governo ha fatto, cioè il governo Conte ha fatto nei confronti dei capi mafia che sono stati liberati con la scusa che c'era il problema del Covid che non potevano rischiare infezioni o cose di questo tipo. Ma poi dopo dove sono finiti questi? Dov'è la realtà? Qui siamo fuori realtà. La magistratura in una certa parte è connivente, in una certa parte è corresponsabile, in una certa parte è ingessata perché ha paura a muoversi, in una certa parte probabilmente aspetta il momento opportuno per mettere in evidenza e per mettere sul tavolo le carte, perché le procure hanno le carte, le procure hanno le prove e devono solo partire con i mandati di cattura. Questo è quello che sarebbe successo in uno Stato democratico. Abbiamo visto con mani pulite, c'era una corruzione pazzesca che faceva comodo ai partiti perché certe corruzioni, certe sponsorizzazioni servivano per finanziare la politica, a un certo punto è venuto fuori il bubone, la corruzione, come anche in questo caso, secondo me in questo caso sarà la corruzione che sarà l'ago della bilancia, perché un magistrato si può ingessare, si può fermare, può essere titubante di fronte alla paura del Covid, di fronte alla paura della pandemia, di fronte alla comodità della sua poltrona rispetto a prendersi certe responsabilità e buttarsi in avanti, allo stare fermo perché nessuno parte, però quando siamo in un contesto di corruzione non possiamo parlare di complottismo, non possiamo parlare di negazionismo, non è una questione di no vax, si vax o pro vax o free vax, è una questione di corruzione, perché i vaccini da chi vengono prodotti, quanto sono stati pagati, dove sono finite le commissioni e perché qualcuno ha deciso di usare questi farmaci quando in realtà sta emergendo che non ce n'era bisogno e che è stato un fallimento totale, quindi questi investimenti con i nostri soldi perché sono stati fatti e quindi questa accelerazione e questo continuo cercare di stigmatizzare, di attaccare, di mettere i vaccinati contro coloro che non hanno intenzione di vaccinarsi è un espediente per deviare il focus, per deviare il bersaglio rispetto a quella che è la realtà, il vero bersaglio è la corruzione e gli accordi che sono stati fatti e che dei parlamentari hanno chiesto di desecretare, abbiamo visto come sono stati desecretati, questo è un esempio di un documento che lo puoi leggere, invece i contratti fatti per l'acquisizione dei vaccini sono tutti anneriti e quindi di che cosa stiamo parlando, c'è una presa in giro. Ma perché soprattutto in Italia? Quando io vedo un gran premio di Formula 1 in Sud America e vedo che ci sono 300 mila persone e poi il presentatore dicendo un'enorme bugia smascherata dice sono tutti vaccinati, non è vero niente perché non c'era richiesto niente, perché questo sta scadendo soprattutto in Italia? Anche in Italia se guardi gli stadi, io guardo le partite, a me piace il calcio e se guardiamo le partite di questo campionato mascherine, distanziamento, ma dove? Con la Fiorentina c'erano 30 mila persone, adesso le hanno diminuiti, hanno messo delle ulteriori, hanno messo delle restrizioni con la scusa di che? Con la scusa del contagio? Ma ci rendiamo conto che questo contagio è fasullo? Ci rendiamo conto che il numero di tamponi fatti è decuplicato? E allora se sono più i tamponi fatti sono più anche i contagi? Anche se la percentuale è la stessa, ma se io faccio il 2% di un milione è diverso dal 2% di 100 mila e se faccio i tamponi su 10 milioni di persone, è ovvio che il 2% è 10 volte superiore, è evidente, no? Ma attenzione, di cosa stiamo parlando? Dei tamponi? Bene, partiamo da un presupposto, il tampone può definire un contagio, una carica virale, vengono amplificati, ci sono varie metodologie, ma quella carica virale è covid? Siamo sicuri? Questo è il punto. È letale? Ma beh, questo è un altro discorso. La letalità, l'hanno scritto dappertutto, dall'ISS, 0,02% la letalità. Altissima contagiosità, alta morbità, bassissima mortalità. Questi sono dati ufficiali, che però non suonano, non risuonano, non sono a vantaggio della propaganda del mainstream, che è assoldato e che è complice di questo colpo di Stato. Italiani, rendetevi conto del fatto che abbiamo al governo gente che sta reggendo un colpo di Stato. Ci stanno togliendo la democrazia. Chiedevi perché in Italia? Perché in Italia è la culla dell'arte, è la culla della cultura, la culla della civiltà, perché c'è il Vaticano, perché c'è la massoneria, perché ci sono tanti interessi, perché Draghi è stato incaricato di liquidarci, come hanno fatto con la Grecia. Quindi di far fallire? Vile affarista. Per far fallire tutto? No, per togliere di mezzo le partite IVA. Quel segmento di economia che dà fastidio alle multinazionali. Fallendo quelle, l'Italia diventa un'area spianata. Quindi io quando dicevo che mi impedivano di dare negozi di dischi a comprare i dischi, però li potevo ordinare via internet, hai detto tutto? Sì. Anche in questa piccola cosa? No, piccola, enorme cosa. Il 15, cosa succede Linda? Il 15 è stata promossa una manifestazione di dissenso a Roma, non da noi, ma in ogni caso teniamo considerazione il fatto che ogni manifestazione di dissenso è importante perché dà il polso della consapevolezza della popolazione. Ci si raccomanda come sempre che questo dissenso venga manifestato in maniera assolutamente pacifica. Non dobbiamo rispondere a nessuna provocazione e chiunque quindi partecipi deve essere consapevole di quella che è la situazione, che è precaria, è rovente. È facile che ci possano essere degli infiltrati, ma è giusto comunque che la popolazione manifesti. È chiaro che bisognerebbe arrivare a un obiettivo. Bisognerebbe arrivare a un obiettivo dove veramente la sovranità venga restituita al popolo. Sia chiaro questo che ormai, ormai, la pluralità dell'informazione, la chiarezza dell'informazione è solo messa al bando. Noi essendo in una situazione di totalitarismo abbiamo proprio difficoltà a portare in luce la verità. Le menti della popolazione sono obnubilate dalla propaganda martellante quotidiana H24 che abbassa quella che è la prospettiva. La popolazione italiana ha perso la progettualità. In questo senso l'Italia è un che verrà svenduto perché comunque si sta mettendo in discussione quella che è la capacità produttiva. Anche in effetti tutte queste sospensioni sul lavoro, cosa fanno? Mettono in ginocchio le famiglie. Ma ci si rende conto che questo obbligo vaccinale è necessario perché altrimenti la popolazione non percepirebbe la necessità e l'opportunità di effettuare questo trattamento. Ma quando mai nella storia una cura miracolosa, una cura che veramente ha portato dei benefici alla salute dell'umanità, ha avuto necessità di essere imposta? Perché le persone devono essere ricattate dietro minaccia di un male ingiusto, ovvero perdere il lavoro. Lavoro che se si tratta del settore pubblico si è raggiunto non solo per titoli ma magari anche per concorso. L'imposizione ai sanitari è un'ulteriore dimostrazione del totalitarismo perché quelle figure che da un punto di vista scientifico volevano dare una opinione, una lettura differente, vengono necessariamente sospese e la loro opinione mal giudicata. Cosa significa? Significa mettere il bavaglio, non mettere la mascherina per proteggere dal virus, ma pregiudicare qualsiasi altro punto di vista. Quindi qualsiasi manifestazione porti in piazza delle persone in maniera assolutamente pacifica, non provocatoria, perché altrimenti sarebbe un assist verso l'affermazione legittimata del totalitarismo. Va bene, va bene perché alle persone dà una chiave di lettura, il fatto di non essere soli. Perché ciò che vuole l'informazione di regime è pensarci in una situazione di precarietà, di pericolo per la salute, che quindi abbassa quella che è la qualità di vita, di diffidenza l'un l'altro nella vicinanza tra gli esseri umani, nella collaborazione e farli sentire soli. Quanto meno la piazza aiuta a far comprendere che non siamo quattro eretici, malpensanti e non scientifici e senza una consapevolezza di quella che è la legittimità costituzionale e la tutela dei diritti umani, nonché della libertà di opinione, di circolazione e chi più ne ha più ne metta. In che percentuale di italiani si, diciamo, ribella? Quale percentuale non è d'accordo con quello che sta succedendo secondo voi? Ma io mi baso su numeri, su statistiche che abbiamo ricavato noi da sondaggi di vari movimenti, con le forze dell'ordine eravamo oltre il 25 per cento in disaccordo, non vaccinati. Nelle forze dell'ordine? Nelle forze dell'ordine, ma ti dico di più, un altro 25 per cento l'ha fatto per un senso del dovere che gli è stato inculcato e su quale ci sarebbe da discutere e un altro 25 per cento invece convinto di quello che fa. Questo secondo me è il vero quadro e così un po' in tutte le categorie. Io volevo mettere in evidenza una cosa a proposito dell'ultimo decreto legge, a proposito della manifestazione del 15, sulla quale anch'io rivolgo una fortissima raccomandazione verso chi parteciperà, perché sono tantissimi i movimenti che partecipano. Fate molta attenzione perché questo legiferare folle, questa spinta così spasmodica nasconde sempre qualche ulteriore retroscena, qualche progetto sinistro. Quindi come è successo a Trieste, che erano stati previsti dei cortei e quant'altro, limitatevi a fare sit-in, limitatevi, controllate bene con chi siete, i vostri vicini. Se vedete persone sospette, filmatele, perché ci sono agenti provocatori, perché ci sono black bloc, ci sono una serie di situazioni che potrebbero essere lì per cercare di innescare delle micce. Perché quello che gli manca a questo punto è solo quello di poter giustificare l'intervento dello Stato marziale. Allora l'opera sarebbe completata. E vorrei anche approfittare di un'altra cosa e dire che l'ultimo decreto che fa sorridere e mette in evidenza quasi sarcasticamente la situazione degli avvocati che se hanno compiuto 50 anni non possono andare in tribunale. C'è un avvocato che non può andare in tribunale. Bene, io la prima udienza che avrò mi metto la toga e vado e entro. E chi si permette di toccare la mia toga deve fare i conti con qualcuno e con qualcosa. Ma anche qui c'è il progetto del dividi ed impera. Metteranno i presidenti di tribunale contro gli avvocati. Vediamo anche gli ordini. Non tutti gli ordini sono in accordo. Alcuni ordini sono in disaccordo. Non puoi andare a toccare la toga. E allora ecco che anche qui la propaganda e il sistema regimentale imposta le cose in modo tale da metterci gli uni contro gli altri. E noi il 20 saremo a Roma tutti avvocati in toga a manifestare. Dove? Roma davanti alla corte di Cassazione. Alle ore 11 c'è la locandina. E siamo 230 mila avvocati. Mi piacerebbe vedere almeno il 10%. Sì guarda siamo veramente... Cioè secondo me le persone non si stanno rendendo conto della gravità della situazione. Esatto. Esatto. Non si stanno rendendo conto del baratro entro il quale ci stanno infilando. la situazione è talmente grave che molti hanno difficoltà a guardare questa gravità e questo male negli occhi. Perché tale e tanto è così paradossale che in effetti si rischia di perdere lucidità. Questo è il nostro compito. Il nostro compito è dare non solo chiarezza e consapevolezza ma dare la direzione. In questo senso appunto come ci siamo espressi in merito alle manifestazioni. Ma è molto importante dare sostegno anche a chi si ricrede. Chi ha ricevuto magari anche in buona fede e fiducia nel sistema le dosi di trattamento ma ha avuto delle reazioni avverse. Chi non vuole ricevere la terza dose o ha compreso che in effetti quella funzione di immunità non si raggiunge. Bisogna adesso rispetto alla situazione nei tribunali avvertire come giusto che sia che questo trattamento non immunizza. Quindi si verrebbe a creare un'ulteriore disparità da chi entra dopo aver effettuato il tampone e chi invece ha ricevuto le dosi di trattamento. Ma oltretutto ci troviamo davanti a un paradosso tale dove non solo viene imposto un trattamento che non immunizza ma dove le persone sperano di ammalarsi. Sperano di risultare positivi al tampone per poter ottenere un green pass da guarigione. Noi siamo veramente in una situazione paradossale dove addirittura per avere la libertà di circolazione e lo dico da isolana ci si auspica di risultare positivi al tampone. Adesso anche gli ultimi colleghi over 50 felici in questi giorni di essere risultati positivi e di non dover soggiacere a quest'obbligo. Ci rendiamo conto che questa è una società deviata. Siamo al paradosso. sperare di ammalarsi per essere liberi. Non so se ci rendiamo conto veramente della deriva e dobbiamo guardarlo negli occhi questo male. Non si può più attendere. Bisogna essere radicati e guardarlo e probabilmente se tutti insieme lo guardiamo negli occhi avremo una visione nitida e potremo reagire nel migliore dei modi affermando i nostri diritti. La preclusione della libertà di circolazione tra le isole per chi deve prendere un aereo, la preclusione dell'utilizzo dei mezzi pubblici per gli studenti, i lavoratori, le persone non abbienti è gravissima perché da un lato si impone, si imponeva l'effettuazione del tampone imponendo alle famiglie dei costi importanti e adesso si ricatta perché si ha un obbligo di inoculazione indiretto perché nella misura in cui si preclude a una famiglia la possibilità di far raggiungere i propri figli le scuole e come sappiamo i lavoratori di lavorare si sta imponendo un trattamento indiretto sempre previa sottoscrizione di un consenso disinformato che comunque alleggerisce le responsabilità delle case farmaceutiche e poi come sappiamo per i medici inoculatori c'è lo scudo penale. Io credo che questo quadro sia abbastanza sgradevole e questa musica sia evidentemente dissonante. Ma se io vado da... cioè mi costringono a fare l'inoculazione, vado e dico ok mi garantite che mi protegge dal virus? Me lo mettete per iscritto? Loro non te lo metterlo per iscritto? No diciamo che se dicono la verità non posso do metterlo per iscritto perché un conto è prevenire il contagio da SARS-CoV-2 e un conto è curare la malattia attraverso il definito vaccino Covid-19. Se un medico dichiara che è la stessa cosa commette un reato di falso ideologico perché non è così e è scritto dappertutto sia dagli enti che da produttore. Dice ok io sono venuto, sono qui, cosa deve chiedere di mettere per iscritto e se non lo fanno chiamare i carabinieri? Sì sì assolutamente. Allora partiamo da un presupposto che per riagganciarmi a quello che diceva Linda prima tutto quello che noi leggiamo in queste pseudonorme è completamente illegittimo e non va assolutamente neanche preso in considerazione. Noi dobbiamo applicare le leggi che sono costituzionalmente valide. La Costituzione dice tutt'altra cosa quindi noi in questo momento dobbiamo disobbedire queste leggi, non dobbiamo assolutamente accettare neanche di giocare con questa gente. Noi dobbiamo perseverare nell'applicazione delle norme che riteniamo corrette. Nell'ambito del lab vaccinale, noi come Comicos abbiamo inserito una sorta di linea guida di come comportarsi, fatevi accompagnare, fissate l'appuntamento, non arrivate a farvi sospendere, fissate l'appuntamento, andate con un accompagnatore che non deve essere necessariamente qualificato perché io posso farmi accompagnare da chi voglio, una persona di mia fiducia, non deve essere un avvocato, non deve essere un medico, solo una persona di mia fiducia che filma tutto quello che succede e quindi in primis sottopongo al medico vaccinatore, primo chiedo dov'è la mia certificazione medica, dov'è la ricetta? Questo è un farmaco e lo ha scritto nero su bianco anche l'AIFA, è un farmaco che necessita di prescrizione medica, specialistica e limitata, è un farmaco che necessita di ricetta medica per la vendita ma evidentemente anche per l'utilizzo, anche per la somministrazione. Poi abbiamo detto che c'è differenza fra la legge che impone un trattamento, un vaccino per evitare la contagiosità quando invece ti somministrano un'altra cosa, aliud pro aliud si dice e quindi non ci siamo proprio. E poi passiamo al consenso informato, va bene, io nel consenso informato sono obbligato dalla legge a vaccinarmi e devo prestare un consenso, anche questo è un paradosso, è antitetico, perché devo prestare il consenso su qualcosa dove tu mi obblighi? Quindi noi nel consenso facciamo mettere che io sono sotto ricatto, sono obbligato da una legge per somministrarmi un farmaco che non ha niente a che vedere con l'evitare il contagio e in più devo darti l'ok per inocularmi un farmaco sperimentale. Noi nei prossimi giorni presenteremo una denuncia e anche al comitato del trattato internazionale del 1966 di New York, perché l'articolo 7 di questo trattato denuncia chiaramente un principio. Nessuno può ricevere un trattamento medico, una somministrazione di farmaco sperimentale senza il suo consenso. Ok? E poi in ultima analisi al medico vaccinatore gli si propone di firmare un'assunzione di responsabilità. Se tu sei così sicuro che non che il vaccino funziona, che protegge, che è la soluzione del problema pandemico, prenditi la tua responsabilità e non lo fanno. Quindi si arriva al punto in cui io vaccinando sono qui per farmi vaccinare e tu non mi vaccini. Allora non puoi sospendermi perché io mi rifiuto, sei tu che ti stai rifiutando di darmi determinate garanzie e quindi a questo punto si passa alla procura della Repubblica o attraverso i carabinieri o direttamente, perché c'è un'omissione dati d'ufficio. Tu devi fare un ufficio che è quello di vaccinarmi e non lo stai facendo. Tu mi stai dichiarando una cosa che non è vera e commetti un reato di falso ideologico. Tu mi aggredisci verbalmente perché io non sto ad obbedire e quindi mi eserciti una violenza privata e dovete denunciarli tutti. Dovete denunciarli tutti. Perché questo è l'unico modo per far scattare veramente la magistratura. Le migliaia e migliaia e migliaia di denunce. Allora a questo punto il magistrato non può sottrarsi alle sue responsabilità professionali. Aggiungiamo un aspetto che non deve essere trascurato. Abbiamo parlato prima in effetti di una pressione, di una pressione psicologica, talvolta di una pressione di un comandante nei confronti dei propri subordinati. Una sorta di predica paternalistica, quasi si stesse utilizzando una sorta di convincimento di fare la scelta giusta, quella etica, quella nei confronti del bene della collettività e per il bene della propria carriera. Tutto questo è sbagliato. Io invito veramente ogni cittadino, ogni membro delle forze dell'ordine, delle forze armate, qualsiasi figura, pubblico impiego, magistrati, chiunque abbia un ruolo ad avere ben presente il fatto che una norma illegittima deve essere disattesa. Prima abbiamo parlato entrambi dei paradossi di questa situazione, di questo sistema, di questo regime. La legge del paradosso è una delle più antiche leggi universali e deve essere intesa come tale. Allo stesso modo quindi è importante comprendere quelle che sono le leggi più intime di senso di giustizia, le leggi universali, le leggi naturali, la tutela dei diritti umani e le costituzioni, nel senso vero di giustizia che non può essere sostituito da una normazione, che non passa attraverso un corretto bicameralismo, dove si strumentalizza la legiferazione d'urgenza utilizzando a suo tempo i dpcm. Oggi il decreto legge laddove non c'è una situazione di gravità ed urgenza da giustificare l'utilizzo di questo strumento, che è un aggiramento di quella che è la corretta formazione della legiferazione nel nostro paese. Aggiungo che non va proprio perduto il senso di giustizia più intimo, il senso di protezione della prole. Qualche giorno fa ho ricevuto un grido d'aiuto da parte di neomamme che avevano i bimbi in terapia intensiva e non gli veniva consentito l'accesso in quanto non vaccinate. Loro stanno ancora allattando e venivano equiparate dalle circolari degli ospedali pubblici cittadini a dei visitatori. Pertanto proprio spaccavano quella naturalità di rapporto tra madre e neonato. Stiamo arrivando veramente alla disumanizzazione. Ma nessuno di noi deve accettare passivamente tutto questo senza percepirne l'ingiustizia e la disumanizzazione più bieche. Grazie. Picchia duro la Coriace. Anche il morigio.